ma la vostra postazione com'è la vostra postazione beh è un garage preso in affitto una volta trasformato in laboratorio d'ora anche sede provvisore del grp come vedete dietro a me c'è un blue screen e scusate un green screen con questo verde fatto a mano colorato dove poi vedrete durante i video e durante le live vedete dietro delle immagini su quel verde che vengono sovrapposte alla mia immagine qui davanti c'ho il pc vedete la postazione dove faccio tutti i montaggi e produco tutti i video che facciamo quindi è un semplice garage ha preso in affitto molto piccolo con una stufetta elettrica e attrezzature abbastanza sofisticate però l'ambiente è quello che è purtroppo per ora siamo qui ciao a tutti un abbraccio da stefano